mi chiamo pangolino tulipano ho 51 anni sono nato a bologna sono arrivato ad amanor perché avevo la necessità di dare dei significati alla mia esistenza il mio lavoro è quello di pittore da tanti anni disegno ho fatto per dieci anni il disegnatore di fumetti ho frequentato delle scuole d'arte e in damanhur mi sono specializzato nella pittura una delle mie grandi passioni da sempre è il fumetto ho portato ad amanor una collezione di fumetti d'autori internazionali e anche con l'aiuto di contributi di varie damanhuriane abbiamo creato una piccola fumettoteca sto lavorando adesso a finire un arco che rappresenta l'aspetto del gioco del saper giocare insieme con l'umorismo queste caricature sono state iniziate da nicolò nicolò figlio di damanhuriani che ha lavorato con noi fino al mese scorso poi ha deciso con grande coraggio di partire come volontario insieme a leone con emergency per contrastare diffondersi di ebola e noi tutti siamo molto orgogliosi di lui il mio sogno per il futuro di damanhur è molto semplice ma molto complesso riguardo alla libertà degli individui la possibilità di esprimere al massimo i propri talenti ognuno di noi è una ricchezza inestimabile quindi io credo che le persone possano esprimere questa ricchezza che è un valore per tutti assoluto questa è la nostra missione